È davvero difficile fare un viaggio lungo in Tesla Model 3? E quanto cambiano i tempi di percorrenza per quanto riguarda i viaggi in elettrico rispetto a un viaggio fatto con un'auto tradizionale? E ancora, quali sono le vere differenze di viaggiare in elettrico rispetto a un'auto a motore termico? Ciao, io sono Andrea Baccega, ho un canale su YouTube chiamato Electron Volt dove parlo di Tesla Model 3 e di mobilità elettrica in generale. Quest'estate ho fatto un viaggio insieme alla mia compagna attraverso l'Europa dove siamo arrivati fino al Capo Nord e tornati indietro. Abbiamo imparato tantissime cose riguardanti la mobilità elettrica, Tesla Model 3 in generale applicata al viaggio. Queste e tantissime altre domande saranno quelle a cui darò risposta o proverò a dare risposta al Tesla Club Italy Revolution 2019 che si terrà il 19 ottobre presso il Fico di Bologna. E quindi ragazzi vi mando al sito internet www.teslarevolution.net dove potete trovare il mio speech e tantissimi altri molto interessanti riguardanti Tesla Model 3 e la mobilità elettrica in generale. Quindi ci vediamo lì il 19 ottobre al Fico di Bologna, al Tesla Club Italy Revolution. Ciao!